Una bella giornata di sole perfetta per tanto turismo ad Arezzo ma anche per una gita importante dall'Australia con ben 16 ragazzi. Allora professore, lei è il professore però è di Arezzo? Sì, sono di Arezzo, originario del quartiere di San Donato. Mi sono trasferito in Australia nel 2008 e ho iniziato a insegnare lingua italiana praticamente dal 2011. Negli ultimi anni insegno anche storia e geografia, quindi italiano e storia e un po' di sport anche. E quindi ha deciso di portare la sua scolaresca qui ad Arezzo, per quanto tempo starete qua? Esatto, allora siamo arrivati due giorni fa e concludiamo la visita con ovviamente il Palio di Siena, il 2, poi il 3 sarà l'ultimo giorno ad Arezzo. Loro sono dalla scuola St. Andrews di Cairns in Australia. Quali pensi di Italia? È molto bello, sì. La prima volta qui? Sì, sì. Quali a te? Sì, è la mia prima volta. Gli piace l'Italia? Sì. Ok, sei felice con il tuo professore qui? Sì. Quali pensi di questa città? È molto bello. Grazie mille. Grazie. Grazie mille.